Ciao a tutti ragazzi, sono Ricky5081 e oggi voglio mostrarvi come risolvere il bug di Minecraft, ovvero quello che quando si apre Minecraft si fa Enter Game, comincia a scaricare gli aggiornamenti e poi viene il messaggio Invalid, Argument, Connect, eccetera, eccetera, non lo so com'è. Ok, alcuni mi chiederanno con che registro, e sto registrando con Hypercam, come vedete. Ok, andiamo al dunque, come risolvere il problema, ok. Ok, aprite Google, e andate sul sito ufficiale di Minecraft, minecraft.net, ok, vi registrate, non ricordo neanche più l'email, c'è la password, Ah, sì, ok. Dai. Ok. Allora, una volta registrati dovete fare Play the Demo, play the demo. Ok, fatto questo, dovrete scaricare il Java, che dovete già avere, e qui in alto fate Seguilo questa volta. E vi si dovrebbe aprire Minecraft. Adesso io lo chiudo, se no succede un casino al mio Minecraft che funziona. Bene, fatto questo, cominciate a giocare, adesso io ho fatto nulla. Poi cominciate a giocare, fate un po' di cazzate. Poi chiudete e provate ad aprire Minecraft. E vedete che il vostro bug, non c'è più. Adesso io non ce l'ho, però... Non ce l'ho, basta. Ok. Vi dico anche che da Rigi5081 è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.